Ci troviamo nuovamente davanti alla struttura fattiscente presente nella strada principale di Bottega. Sono state numerose le segnalazioni e le problematiche sollevate dai diversi cittadini in merito alla struttura privata. La scorsa settimana è intervenuta anche la consigliera comunale del centro-destra, Carla Nicolini, che ha nuovamente esposto il problema e noi l'abbiamo rimandato al sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, che ha risposto così. Presente questa struttura fattiscente nei pressi di Bottega, sindaco di Vallefoglia, lei cosa risponde a questa problematica? Io ho già risposto con un'ordinanza che è un'ordinanza sul decoro e sul mantenimento dei beni pubblici e privati già da un anno dopo l'insediamento, cioè da sei anni fa. Poi lì c'è anche un'altra ordinanza dell'ufficio, che ancora era responsabile dottor Giorgi, e poi abbiamo sollecitato con più lettere il Tribunale informandogli di quel bene per metterlo in sicurezza. La verità vera è che tutti i beni delle persone che sono fallite sono nelle mani dei Tribunali e i Tribunali non hanno risorse per demolirli o rimetterli a posto, perché gli vengono consegnati i beni di uno che ha fallito. E poi abbiamo chiamato più volte il curatore fallimentare, è venuto anche qualche giorno fa, quindi ho buone ragioni per sperare che diano una sistemata, che lo mettono in maggiore sicurezza, e che poi lì c'è un piano particolareggiato nel piano regolatore di privati, che speriamo facciano quanto prima la demolizione e costruiscono quello che è previsto dal piano regolatore. I beni privati e pubblici devono essere tenuti bene, in maniera tale che c'è un decoro della città, perché volendo sarebbe, diciamo, anche di chiedergli danni per, diciamo, danneggiamento delle immagini di una città che noi curiamo con investimenti importanti su tutti i settori, dai parchi, ai giardini, ai rotatori, alla segnaletica, la sistemazione e alla messa in sicurezza degli asfalti, e poi ci sono pochi, per fortuna saranno 5-6 casi, di privati che hanno lasciato in abbandono questi beni.